allora ragazzi manca un minuto, manca un minuto alla fine la Fiorentina conduce per 4 a 1 tra l'altro siamo andati vicinissimi ora ai quinto gol e voglio iniziare così perché voglio dire perfetti, 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 perfetti gioia viola in Europa, ho voluto intolare questo video perché la Fiorentina ragazzi con questo 4 a 1 a 30 secondi al termine di questa andata in Polonia o in Lecce o in Lecce Poznan, insomma non voglio dire ipoteca la semifinale di Conference League perché ragazzi c'è da giocare altri 90 minuti perché è come dirvi che ne so anche in Coppa Italia si è vinto 2 a 0 ma c'è comunque un ritorno ci sarà ritorno in questa partita però si parte con un grandissimo 4 a 1 strameritato fatemi fare un applauso ai tifosi del Lecce che comunque hanno inquadrato più e più volte e hanno sempre sostenuto la squadra, questo è un grande senso di appartenenza quindi ci tengo a fare complimenti ai Lecce Poznan voglio dire anche una cosa che non riguarda la Fiorentina però riguarda la sportività che io ne sono sempre stato Cesni, portiere della Juventus che sappiamo essere una nostra rivale storica è uscito dal campo, sembra, intanto è finita la partita della Fiorentina è uscito dal campo toccandosi il petto ovviamente speriamo non sia niente di grave perché al di là della rivalità rimane comunque sempre il rispetto e comunque insomma alla fine è sempre un essere umano, un giocatore quindi ci mancherebbe altro indipendentemente dai colori che uno indossa speriamo che non sia niente di grave Fiorentina è finita la partita ragazzi 4 a 1 in Polonia non voglio dire che andiamo in semifinale perché non me la voglio guffare però se l'altra volta abbiamo leggermente strappato il pass per la Coppa Italia in finale qui ragazzi strappiamo un pochino più leggermente ancora di più il pass per la semifinale in Conference League fatemi salutare e vi invito ovviamente a seguire gli amici di Space Viola vi lascio qua sotto il link in descrizione se vi va ragazzi seguite anche me Andrea Marino, Mr. Viola, Instagram e Facebook sono i link che li trovate qua sotto ovviamente qua su Youtube tanto vale mettere proprio iscrizione cosa vi devo dire io? cosa vi devo dire di più di quello che abbiamo visto? perfetti perfetti perché la Fiorentina è partita subito forte ma subito subito forte come è giusto che sia anche ieri non ho pubblicato il video del giorno prima per motivi lavorativi ragazzi ma le parole di González ancora mi dissuonano insomma dobbiamo lasciare la vita in campo insomma ragazzi questa è una squadra che va difesa che al di là dell'1-1 con lo Spezza di domenica scorsa questa è una squadra che ci sta credendo tanto è la tredicesima risultato utile consecutivo ragazzi non si perde da tredici partite e sono numeri sono numeri sono numeri allora al gol dell'EC vi dico la verità un pochino mi sono impaurito perché ho detto questa è una squadra che potrebbe andare anche in difficoltà mentale potrebbe un po' spaventarsi invece no mi ha sorpreso perché ci ha subito ricreduto cioè non è che è stata lì attenzione ora fanno vedere tra l'altro insomma i tiri totali ragazzi sono 21 21 tiri contro 4 cioè è una squadra che ha dominato non tanto del possesso palla ma proprio dominato in tutto dominato in tutto anche nei corner 5 contro 2 insomma ragazzi stiamo parlando di una squadra che ha dominato e sta dominando e si sta parlando sempre di più di Fiorentina si sta parlando sempre di più di Fiorentina chiunque entra in questa squadra lascia il segno chiunque esce da consigli a chi entra chiunque esce abbraccia il proprio sostituto chiunque entra anche se per 10 minuti 5 minuti da tutto ci crede c'è coralità c'è voglia c'è unione ma cosa vogliamo di più? la coppa tira su la coppa mi verrebbe da dire io voglio fare veramente i complimenti a questa squadra che ci sta regalando tantissime soddisfazioni stasera ce ne ha regalato un'altra adesso dobbiamo maturare sempre di più perché non si smette mai di crescere maturiamo quindi questa è una grande vittoria adesso subito testo ovviamente ovviamente al campionato perché affronteremo una grande squadra una squadra difficile come l'Atalanta in casa sarà molto difficile sarà molto difficile però io credo che questa squadra sia arrivata a un livello di consapevolezza che la può spronare a fare lo scatto a fare il salto di qualità perdonatemi io penso veramente che questa sia una squadra che in questo momento con il click che hanno detto che stanno dicendo tutti Verona 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 bene diciamo questo Verona ha fatto questo click questo passaggio consapevolezza autoconsapevolezza si stanno conoscendo cioè hanno capito le proprie qualità le proprie caratteristiche fin dove si possono spingere si stanno spingendo e andiamo oltre e andiamo oltre perfetti fatemi dire perfetti basta non voglio dire altro perché ogni parola aggiunta sarebbe di troppo ci vediamo domani ovviamente per il giorno dopo di Poznam Fiorentina che finisce 4-1 in gol Cabrali il solito Cabralo meravigliavo poi Nico Gonzalez che è stato stasera straripante straripante ragazzi il gol di Buonaventura che c'è sempre Jack è come il prezzemolo cioè c'è sempre c'è sempre non lo levi mai e poi è arrivato anche il sigillo di Jonathan Nicone che non solo scarta il giocatore al centrocampo si fa quei quei 15-20 metri e poi guarda l'angolino basso la piazza lì e poi ma 4-1 non dico altro ragazzi sempre Forza Viola ci vediamo domani